E vai! Ciao Ivan, fai un caffè? Hai un bel vacanzo? Eh no, quest'anno no, non ce la faccio con i soldi. E la tua fidanzata? Lei sì, lei già sta in vacanza. La sua no? Eh! Ma non hai paura che ti gratisci? No! No! E come fa? Io tutte le serie ti faccio la videochiamata. Grazie.